Le tecniche per rubare il gasolio destinato ad alimentare la centrale termoelettrica di Cerano erano svariate. A volte trasferivano parte del combustibile da un'autocisterna a un'altra che aveva concluso le operazioni di scarico o collegavano semplicemente il tubo al serbatoio dello stesso camion invece che a quelli del sito industriale. In questo modo sarebbero state compiute almeno 35 sottrazioni di gasolio, ognuna delle quali non inferiore a 80 litri. Con le accuse di furto aggravato sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Brindisi sei autotrasportatori di Massafra, Palagianello e Montegliasi, tutti della provincia di Taranto. Un settimo uomo è indagato a piede libero. Le sei ordinanze di arresti domiciliari sono state emesse dal GIP del Tribunale di Brindisi Vittorio Testi su richiesta del PM Pierpaolo Montinaro. L'indagine è stata condotta dal giugno al novembre 2020 ed è nata dalla denuncia della società Enel Produzione, proprietaria della centrale elettrica Federico II, che aveva registrato consumi abnormi di carburante non commisurati al normale esercizio della centrale elettrica. Enel Produzione acquista direttamente da Eni il gasolio destinato all'esercizio di apparecchiature ausiliari e dei motori indispensabili per il funzionamento della centrale elettrica per circa 3.340 tonnellate mensili. Eni provvede alla fornitura del gasolio avvalendosi di autocisterne con servizio appaltato a una società che a sua volta utilizza altri trasportatori locali della provincia di Taranto. Le indagini condotte dai carabinieri di Brindisi hanno consentito di arrestare subito in flagranza un autotrasportatore 28enne di Massafra con il contestuale sequestro di quasi 9.000 litri di gasolio sottratti alla centrale Federico II. Quindi sono stati documentati altri episodi con il coinvolgimento complessivo di sette autotrasportatori. L'accusa di furto nei confronti dei sei arrestati è aggravata dall'aver sottratto carburante destinato a pubblico servizio e a infrastrutture indispensabili per il funzionamento dell'impianto di produzione di energia elettrica.